Grazie, grazie Presidente. Per ragioni di tempo ometto di ringraziare i ringraziamenti sentiti. Utilizzerò la frase sintetica di Zagrebeschi, come era? Ringrazio tutti quelli che devono essere ringraziati. E inizio. Direi che alla fine di queste tre dense giornate di discussioni possiamo provare anzitutto a rispondere all'interrogativo prosto dal titolo del convegno. Andiamo verso l'unità trasfrontaliere del diritto costituzionale? Domanda che è stato oggetto dalla nostra tavola rotonda di ieri pomeriggio ma che ha attraversato l'intero nostro convegno. E direi che la risposta unanime è stata negativa, sebbene espressa con argomentazioni diverse. Tutti hanno riconosciuto l'esistenza di radici comuni, la proficuità del confronto, anche di quello sin cui svolto soprattutto grazie ai luoghi di dialogo, come il centro di Aix-en-Provence o di Toulon, come ci ha ricordato Grosso, ma anche di Manon ieri. Ma ciò non vale a negare le differenze. Certo, è anche vero che appena si passa a definire quale sia il nucleo comune, le risposte appaiono diverse. Il diritto occidentale ancillare che si pone al servizio delle forme di produzione capitalistica, come ci ha ricordato ieri Luciani, ovvero, almeno in Europa, la necessità di protezione del valore della pace, come ci ha suggerito Balduzzi, o ancora i valori comuni legati alla difesa dello Stato Costituzionale di diritto, come, con passione, ci ha indicato Silvestri. In ogni caso, l'unità transfrontaliera del diritto costituzionale non sembra possibile. Anzi, in verità, non è neppure un traguardo desiderabile. La transnazionalizzazione del diritto credo che sia una formula in sé eccedente ed impropria, almeno con riferimento a qualunque contesto nazionale o rapporto tra nazioni, poiché è a rigore l'unica vera transnazionalità del diritto opera in campo coloniale, tra una nozione soggetta alla sovranità di un'altra. E, per fortuna, non è questo il caso dei nostri due Paesi. In caso, l'obiettivo, altamente auspicabile, è quello di intensificare il dialogo tra le dottrine costituzionali, poiché il confronto da due sistemi non troppo distanti per cultura e storia può garantire una reciproca crescita e consapevolezza. Però fermarsi al solo elogio del dialogo sarebbe ben poca cosa, persino un po' banale. Credo sia giunto il tempo di qualificare e specificare qual è il dialogo che può servire alla dottrina, ma anche, più in generale, alla tenuta del diritto costituzionale normativo. Dico questo perché da diverso tempo a questa parte si registra un'inflazione del dialogo. Sembra che tutti vogliono consversare, con il rischio di una terribile cacofonia di linguaggi diversi, poco strutturati e fino a un po' se stessi. Così l'enfasi, spesso riservata al dialogo tra le corti, che ormai è assurdo il vero e proprio prototipo di ogni dialogo tra giuristi, anche di quello tra le dottrine, come ci ricordava ieri Giuliano Serges. Però non sempre ha condotto ad un linguaggio comune, un dialogo sempre pacifico, come anche ci ricordava ieri Carlo Collapietro. Ed anzi, negli ultimi tempi, mi sembra sia inasprito questo dialogo, trasformandosi in una tensone. Soprattutto quello tra corti costituzionali nazionali e corte europee di giustizia. Certo, il rilancio dei controlimiti, ma anche un uso a volte strumentale del ricorso pregiudiziale, non volto a ristorare una leale collaborazione tra organi giuridizionali, bensì finalizzati ad avere l'ultima parola. Lo dimostrano le saghe, esemplari, che hanno coinvolto diverse corti europee. Sì il caso Tarricco in Italia, ma ben peggio il caso Weiss in Germania, che si è concluso dopo una serie di passaggi interlocutori di dialogo, con una pronuncia del Tribunale Costituzionale tedesco dove è configurato un tentativo di delegittimazione totale dell'altro giudice, che avrebbe operato ultra vires, motivando in modo arbitrario. Più che un dialogo, direi un insulto. Così anche quel dialogo, più tradizionalmente rivolto alla ricerca delle tradizioni costituzionali comuni, considerato un parametro di riferimento sin dai tempi di Maastricht e formalmente previsto dai trattati, non può dirsi abbia prodotto grandi risultati o fatto emergere un diritto comune europeo. Gaetano Silvestri, ieri, ci ha ricordato che in Europa, soprattutto dopo l'incorporazione della Carta di Nizza nel diritto primario, il Trattato di Lisbona, l'articolo 2, si è avviato un tentativo di trasformazione dell'Unione in una comunità di valori. È vero, anche che la ricerca di strade in grado di autonomizzare, e rendere sostanziali questi valori è stata autorevolmente auspicata. Devo parlare più piano. È stata autorevolmente auspicata. Vorrei anche dire che concordo pienamente sul fatto che Silvestri ci indicava, sul fatto che i costituzionisti debbono decidere da che parte stare. Dalla parte del costituzionismo moderno, democratico e pluralista. Bisogna crederci, ma temo che non basti. C'è un punto critico che non possiamo negare, che è data dalla mancanza dei soggetti storici reali, delle condizioni politiche e sociali necessarie per rendere questi ideali effettive realtà. La brutalità del caso polacco e ungherese, che vedono un'unione impotente a garantire i valori di fondo dello Stato diritto, sembra mostrare una prospettiva inversa e assai preoccupante. Sì, la multa, ci diceva sempre Silvestri ieri, combinata da un giudice, una multa che non varrà mai versata dai sovranisti polacchi. Non però le misure politiche più drastiche, la clausola di sospensione in applicazione dell'articolo 7 dell'Unione, perché essa richiede l'unanimità. Una prospettiva regressiva che non risparmia neppure la giustizia costituzionale, sempre che si possa parlare di giustizia costituzionale quando questa è pronunciata da un tribunale dipendente dal governo, come quello polacco, e che assume di poter sindacare la costituzionalità del Trattato europeo, ponendo fino alla logica della primazia delle norme dell'Unione, un colpo al cuore, alla stessa legittimità del complessivo sistema normativo dell'Unione europea e degli equilibri tra gli Stati. Più piano. È la foga, è la foga nel dire che... Prego? È la foga, sono troppo animato. Vero è comunque che il dialogo che in questa sede in particolare si aspica è quello della comunità dell'interprete della Costituzione. Ciò non di meno. Anche in questo caso ritengo si tratti di specificare, andando oltre l'indicazione culturale e berliana, anche oltre le strategie comunicative abermassiane. Voglio dire, cioè, che non ci si può limitare al dialogo puramente culturale, svolto da una comunità unita dalle sue nobili tradizioni di pensiero in nome delle figure più nobili. Beccaria per l'Italia, Montesquieu per la Francia. Non può essere un confronto sui soli principi generali, quelli che caratterizzano, per esempio, la cultura occidentale, la cultura giuridica occidentale. Ovvero quelli fondati sulla generica opzione a favore dello Stato di diritto. Non basta perché sarà pur vero che i detrattori di questo fondamentale principio di convivenza possono essere considerati or de la loi, ovvero or de l'humanité, come ci ha spiegato già Carl Schmitt. Ciononostante, a me pare un po' poco per poter riflettere criticamente sullo Stato in cui versano gli Stati diritti ordinamenti che non sono esattamente pacificati. Avverto cioè il rischio di idealizzare un po' troppo le nostre riflessioni, anche perché l'unificazione del diritto attraverso la connessione dei principi universali rischia di essere governate da egemonie politiche più che da affinità culturali o da vicinanze geografiche. Tutto ciò mi porta a ritenere che il dialogo trasfrontaliero, la comparazione tra sistemi insomma, si debba principalmente concentrare sul metodo e svilupparsi per problemi, non escludendo divisioni, anche fratture, all'interno dei contesti nazionali. Auspico cioè che il dialogo franco e chiarificatore sia in grado di attraversare le stesse divisioni interne alle culture giuridiche nazionali, al fine di una ricostruzione di un'identità disciplinare plurale. Mi spiego. Chiedisco anzitutto perché il confronto deve riguardare essenzialmente il metodo. Dobbiamo partire da una constatazione che qui do per dimostrata, anche se forse dovrebbe essere discussa. Viviamo, e non da oggi, il tempo della fine dell'unità del metodo giuridico. Assistiamo nei diversi contesti nazionali, in Francia, in Italia, ad una progressiva frantumazione delle prospettive di studio. Di un eclettismo che qualcuno, almeno in Italia, ha persino teorizzato come idoneo al tempo della postmodernità giuridica. Forse, in una certa fase della nostra storia, la rivolta contro il metodo giuridico ha rappresentato un modo per liberarsi dell'eccessivo formalismo della tradizione giuridica e porre la questione dell'attuazione costituzionale come problema prettamente giuridico e non solo politico. Una prospettiva che è durata un trentennio, il mitico trentennio d'oro del costituzionalismo del secondo dopoguerra. Ma poi, dall'inizio del quarantennio di piombo che ne è seguito, gli eccessi del pluralismo metodologico hanno finito per far smarrire l'identità stessa della scienza costituzionalistica. Ora mi chiedo se un confronto tra esperienze giuridiche diverse, tra culture giuridiche, non possa rappresentare una via per recuperare una coerenza di metodo. Penso ad esempio all'importanza che in entrambi i paesi ha avuto ancora e può avere ancora l'istituzionalismo. Un metodo che come ci ricordava ieri Marco Fioraranti ha portato molti giuristi a cercare alternative a riflettere su metodi diversi di declinare il concetto di sovranità indicando peraltro una rotte non assimilabili alle prospettive senn'allora egemoni. Se la Francia ha avuto la lezione ancora oggi preziosa credo di Oriù di Gui in Italia santi romano non è stato da meno. Così è di ritenere che un dialogo tra istituzionisti francesi e italiani oggi ha posto si a produrre più conseguenze che non il dialogo tra sordi che si viene a instaurare usualmente nei due paesi tra formalisti realisti neocostituzionisti normativisti neonormativisti principialisti creazionisti testualisti decisionisti pragmatici eclettici delle più varie specie. Forse sono stato troppo veloce ma insomma è un elenco che può essere riassunto. Si è fermata ai testualisti. Vabbè eccetera ma non solo sul metodo può avvenire il confronto anche su temi specifici dicevo per problemi non invece sul tutto anche qui mi spiego che senso avrebbe mi chiedo confrontare per intero due ordinamenti costituzionali che hanno forme di governo diverse ma anche sistemi di tutela giurisdizionale assai distanti tra questo secondo profilo arriverò tra un attimo soprattutto dal punto di vista delle prospettive costituzionali sarebbe in vero insulso a mio modo di vedere un confronto sulla forma di governo che andasse ad eseminare i singoli organi costituzionali certo si potrebbe sempre scoprire che so che esiste una comune debolezza dei parlamenti ma le cause o sono quelle universali su cui non vale il confronto come la verticalizzazione del potere prodotto dalla internazionalizzazione delle politiche la progressiva maggiore interrelazione tra gli ordinamenti la perdita delle sovranità degli stati l'estendersi delle pratiche di governance e di soft law che marginano il potere di controllo e di decisione dei parlamenti nazionali o queste che non richiedono confronte oppure cause che operano all'interno di singoli stati di diversi contesti politici che sono da imputarsi al mutare degli equilibri politici definiti in costituzione delle rispettive forme di governo in questa seconda prospettiva la differenza tra Francia e Italia sono prevalenti rispetto al confronto dell'esperienza costituzionale in fondo ce l'ha spiegato Aristotele non importa qual è la forma di governo che viene prescelta quel che conta per lo studioso è esaminare i caratteri specifici per evitare le loro degenerazioni a ciascuno dunque lo studio dei rischi delle proprie degenerazioni quelle del semipresenzialismo in Francia quelle del parlamentarismo per l'Italia se questo vale per le forme di governo non è invece riferibile per le altre fondamentali questioni specifiche che devono essere confrontate e che possono fare emergere preziosi insegnamenti comuni in quest'ottica il nostro incontro è stato prezioso troppo ricco troppa carne al fuoco rischiamo anzi abbiamo fatto indigestione comunque tre gli assi crisi della rappresentanza politica l'eterna questione delle fonti e infine l'evoluzione del sindacato di costituzionalità e il ruolo della corte costituzionale e scusate se è poco cominciamo col dire che la questione della crisi della rappresentanza politica dovrebbe portare ad allargare ulteriormente lo sguardo e ci porterebbe ad occuparci della crisi dei sistemi democratici puri tutto cur questione veramente troppo complessa per essere esaminata mi limiterò allora a denunciare solo quello che a me pare il punto di fondo rinviando al testo l'analisi specifica delle questioni sollevate per questo vorrei partire da quanto ci diceva ieri Genè Dussaud io non so se storpio i cognomi mi scuso ma dei miei appunti vabbè spero che ci siamo capiti diceva non ripeterò il cognome non si potrà mai realizzare la democrazia ideale la democrazia è sempre stata in crisi è vero ma proprio per questo si tratta di capire qual è lo scarto che oggi si registra c'è infatti décalage e décalage la preoccupazione del nostro tempo è che la crisi della democrazia di quella rappresentativa possa toccare ormai la legittimazione stessa dei poteri costituiti è questo che ci preoccupa i fattori i fattori di crisi sono stati elencati da Ines Ciolli e sono inequivocabili li riassumerei così se è vero che l'essenza e il valore della rappresentanza politica è nel rapporto controverso ma essenziale tra rappresentanti e rappresentati è la possibile rottura di questo rapporto che preoccupa neppure più la paura o la diffidenza del popolo che non può governare se stesso di cui parlava Genèdu Sozzo correggimi ma non solo la paura ma l'abbandono del popolo che non va più a votare e volta le spalle ai propri rappresentanti e dunque alla democrazia dall'altra parte del rapporto sul versante dei rappresentanti assistiamo invece alla fine della responsabilità dei governanti o al più il passaggio alla tecnocrazia al dominio della tecnica ce lo ricordava Inesciolle ieri con l'aggiunta dello snaturamento dell'attività degli organi rappresentativi del Parlamento in particolare se questo è il quadro fosco c'è veramente da chiedersi quale sia il senso il valore della nostra democrazia rappresentativa oggi non credo che possa consolarci la democrazia dei numeri di cui ci parlava De Rosier questa come ci è stato detto è uno strumento che può facilitare la connessione ma se prendi il posto della democrazia rappresentativa la uccide tutto ciò per dire che faremo bene a non dare più per scontare le magnifiche progressive sorti della democrazia come per tanti anni abbiamo fatto e come ancora in molti pensano l'invito è tornare a riflettere sulle basi teoriche ma anche politiche che si pongono alla base della indiscussa democrazia ma andiamo avanti per quanto riguarda il secondo megatema trattato il rapporto dei giudici con le norme e sulle fonti devo registrare anzitutto una diversa sensibilità anche l'oggi l'abbiamo sentito al problema espresso dai colleghi francesi rispetto agli italiani più preoccupati della crisi del principio gerarchico i francesi assolutamente mi sembra consapevoli della decadenza del principio e però mi è perso più resti a decretarne il superamento così Jordan Arleaz ha parlato di turbamenti ma non di vera e propria crisi del principio gerarchico introdotto soprattutto dalla clausa Europa ma in fondo ha escluso una possibile sua rinascita in forma di gerarchia dei controlli Manuel Gross ci ha fornito un quadro preoccupante anche in Italia noto in realtà di progressivo allonamento dei giudici da rigore dell'interpretazione testuale che favorisce il non rispetto del principio gerarchico una elasticizzarsi dei canoni ermeneutici che in realtà non riguarda soltanto il rispetto della gerarchia tra norme ma la complessiva attività dei giudici coinvolgendo tutti i criteri di risoluzione delle antinomie allargando allora qui lo sguardo vorrei chiedermi quali siano le cause di tutto ciò pur scontando la decisa condanna di ogni eccesso di soggettivizzazione dei giudizi perché i giudici sono sottoposti alle leggi e vincolato al loro potere mi chiedo però se possa escludersi che nel momento dell'applicazione della norma alla vita concreta ai casi della vita il giudice non debba tener conto delle trasformazioni sociali complessive vorrei richiamare tre diverse questioni prima è vero che in alcuni casi la giurisprudenza ha anticipato la legge è il caso ad esempio della tutela dei diritti delle coppie SM6 dove la giurisprudenza sia nazionale sia costituzionale sia sovranazionale è giunta ben prima delle diverse leggi che hanno poi dato specifiche regole di convivenza mi chiedo si è trattato di un'impropria inversione di campo dei giudici per la creazione di un diritto per via pretoria ovvero la immersione di un diritto costituzionale implicito al sistema una seconda riflessione mi sembra ancora più significativa che succede quando all'inverso non in assenza di diritti i diritti non solo ci sono ma sono tutti garantiti dalla costituzione posti tutti sul medesimo piano della scala gerarchica si tratta del caso più usuale fisiologico dove le corti non possono fare altro che bilanciare i diritti ed è evidente che tanto più tale il bilanciamento è libero quanto più il rischio di soggettivizzazione del giudizio è elevato ciò avviene ogni volta che non sono espresse nel testo costituzionale gerarchie di valori interni esplicite distinzioni tra diritti ritenuti fondamentali e diritti ritenuti non fondamentali quando come la regola ci si limita ad affermare il diritto per poi lasciare all'interprete il compito della loro composizione in questi casi inevitabile e certa è l'ampiezza e l'apprazzamento del giudice io non nego che molto spesso il risultato non convince o non convince al pieno per esempio personalmente ritengo che nel caso ILVA in Italia ove l'equilibrio tra diritto all'ambiente diritto al lavoro diritto all'impresa non ha condotto visto che sono qui alla corte non ha condotto la corte ad un esito soddisfacente ovvero definitivo ovviamente questo è un mio giudizio personale che come vedete vale per quel che vale non se ne esce la terza problematica riguarda l'armamentario assai sofisticato che si è data nel corso del tempo la nostra corte costituzionale soprattutto con riferimento agli effetti delle decisioni in alcuni casi non vi è dubbio come dire che ciò ha favorito la creazione in via giurisprudenziale di normi prima non esistenti ma si può pensare di tornare solo all'accoglimento e al rigetto delle questioni sottoposte allo scrutinio dei giudici ne penso si possa immaginare una corte di stretta osservanza calsegnana che sindichi esclusivamente esclusivamente i vizi formali può essere come ci invitava a fare ieri Carnevale e ancora oggi Zanon Balduzzi Leonardo Pace che si possono sindacare anche i vizi formali può essere ma ciò non porterebbe una semplificazione vorrei semplicemente notare ma semmai a una nuova complessità inseriti nel nuovo contesto i vizi formali Zanon lo accennava poco fa i vizi formali si porrebbero come vizi ulteriori in cui fare ricorso quando non si riesce a sindacare un vizio sostanziale producendo un ulteriore allargamento del controllo dei giudici e le leggi sul Parlamento e sull'attività di questo la questione di fondo allora diventa diventerebbe in quale rapporto stanno i vizi formali con quelli sostanziali in ogni caso se si ammette l'interpretazione della legge da parte dei giudici il problema principale più che la definizione di gerarchia tra norme diventa il limite di tale interpretazione quel che mi sento di dire allora sul punto è che la forza espansiva creativice di norme da parte dei giudici non può essere rimessa unicamente all'auspicabile ma imponderabile se faro estreno della Corte ci sono i precedenti la rigorosa utilizzazione dei cani di teoria dell'argomentazione il vincolo testuale che a mio modo di vedere sono i tre argini più soliti che possono evitare ai giudici di oltrepassare il proprio territorio ed invadere quello del leggellatore per questo non sono accettabili le motivazioni succinte e le auto-interpretazioni del Conseil di cui ci ha parlato ieri di Manno qui inizia dovrebbe iniziare un'approfondita riflessione sull'uso dei canoni di ermeneutica che mi pare il vero punto ondolence ma questioni di tempo mi spingono invece ad andare oltre sempre più i criteri di composizione di conflitti tra norme rispetto tra la gerarchia dei feonti si è stato affrontato in altro modo nel modo teorico-sistematico che ieri abbiamo udito l'eco e anche oggi espressa dagli interventi di Franco Modugno e da quello di Giovanni Sergers Giovanni Sergers punta l'attenzione sulla Costituzione ha puntato l'attenzione sulla Costituzione per dimostrare come proprio la fonte suprema sia fondamento dello scardiamento del principio di gerarchia quantomeno la moltiplicazione delle gerarchie ci ha parlato di tipi di gerarchie Modugno ancora più radicalmente richiede che il criterio della gerarchia sia stato sostituito da quello della competenza lo abbiamo sentito posizione che da tempo sostiene io non vorrei qui discutere le sue note argomentazioni mi chiedo però se ci sia bisogno di scegliere tra il criterio o il principio della gerarchia e quello della competenza per dichiarare quale debba prevalere o se uno dei due sia l'unico come è noto non due ma quattro sono i criteri di composizione del sistema delle fonti gerarchia competenza specialità cronologica ciascuno di questi ha la medesima finalità dare un ordine alle fonti fornendo criterio per la risoluzione delle antinomie non a caso sono definiti criteri ordinatori medesimo il fine stesso il limite nessuno di questi è autosufficiente è la progressiva difficoltà a conseguire l'obiettivo comune quello della riconduzione ad unità del sistema ordinato delle fonti che mostra la necessità della loro ricomposizione alla ricerca di diversi compiti tra loro coordinate è un discorso complesso che in questa sede non posso limitarmi che a rilevare quello che a me sembra l'essenziale limitandomi alla seguente indicazione il dato principale è determinato dalla scomposizione dei criteri ordinatori delle fonti che si lega a mio parere ma anche oggi abbiamo sentito un eco alla perdita di superiorità gerarchica ma anche competenziale della costituzione detto in breve se e fintanto che la costituzione si pone al vertice del sistema delle fonti e conserva la competenza delle competenze chiamiamola così ovvero la capacità in via esclusiva di definire gerarchie competenze ma anche il riporto dei diversi criteri di composizione allora è chiaro che ad essa si deve fare riferimento esclusivo per ordinare l'assetto compressivo dell'ordinamento ora la domanda allora la domanda è una sola ma essenziale la costituzione è l'epoca della post-attualità le costituzioni sono ancora al vertice degli ordinamenti giuridici e sono ancora titolari della distribuzione delle competenze in via di fatto Modugno ha ragione quando rileva l'estendersi anzi la prevalenza del principio competenziale oggi ma il rapporto tra gerarchie e competenza dal mio punto di vista non è risolto non è risolto neppure oggi non è stato risolto neppure oggi quando Carnevale per esempio ci ha detto beh la competenza prescinde dal grado ci pone un problema ma se fosse vero che la competenza debba prescindere dal grado ciò vuol dire che la competenza non la dà la costituzione e allora chi la dà la danno le consuetudini la necessità o il potere politico o il potere politico quando Massimo Sigali parla della Grund Norm che non è più al vertice ma al fondo del sistema cosa troviamo al fondo del sistema l'ho accennato il fatto il fatto cioè non c'è un rischio che il fatto sia un fatto senza diritto un fatto senza istituzione andando oltre quello che ci diceva Santi Romano che perlomeno si poneva il problema della questione della trasformazione del fatto in diritto andando oltre il patto Hobbes diceva che oltre il patto c'è il diritto c'è lo just nature alla base della società naturale ove prevalgono i poteri privati i poteri selvaggi in via di fatto dicevo Modugno ha ragione quando rileva l'estendersi anzi la prevalenza del principio competenziale oggi il punto critico è però che tale tendenza non è tanto il frutto di un'elaborazione teorica ovvero dell'affermarsi del principio di orizzontalità console le nostre democrazie pluraliste a me pare piuttosto che sia la conseguenza del caotico moltiplicarsi e frammentarsi della progressiva e generalizzata atipizzazione delle fonti normative un elemento di un processo che visto nel suo insieme rischia di rendere più complessa la riconduzione al sistema del sovraffollato giardino dei diritti delle fonti anche per questo credo che un impiego coordinato e sistematico al criterio plurale dei criteri ordinatori delle fonti al plurale sia un obiettivo utile non per negare la realtà frammentata per non rinunciare alla finalità sistematica un discorso che andrebbe per le lunghe ma devo passare all'ultimo argomento di cui ci si è intrattenuto in questo convegno l'evoluzione del sindacato di costituzionalità il ruolo politico di quest'ultimo mi inimito ad alcune considerazioni relative all'evoluzione italiana lasciando l'evoluzione francese dal collega sul versante italiano Paolo Passaglia parla di crisi del non modello del non modello incidentale ma alla fine ha concluso osservando come questa crisi in fondo possa rappresentare anche una sua nuova forza poiché ha finito per espandere il suo ruolo a una sorta di sindacato diffuso di costituzionalità tra i giudici comuni anche Marco Ruotolo per altra via giunge a rilevare l'espansione del potere del giudice costituzionale certo alla fine della centralità del processo incidentale l'espandersi di altre forme di accesso del processo principale ai conflitti sono dati incontrovertibili trasformazioni del processo costituzionale che sono anche espressione di una profonda trasformazione della natura sostanziale collegata al ruolo politico assunto dalla Corte nell'ambito della nostra forma di governo l'esplosione dei conflitti non tanto come pure è stato detto porta il giudice costituzionale progressivamente a trasformarsi da Corte di diritti a Corte dei poteri quanto a decidere porta la Corte a decidere in tema di diritti su questioni di grande rilievo politico ponendo la consulta al centro del dibattito e dell'attenzione politica troppi e troppo noti sono i casi che valgono a dimostrare questa tendenza le decisioni sulle leggi elettorali i conflitti sulle prorogative del capo dello Stato gli interventi sulle leggi di bilancio la riscrittura del titolo quinto e via l'incanto sotto questo provvedo dunque non è di crisi che dovremmo parlare ma di nuova centralità tuttavia e questo è il punto non è del tutto positiva questa nuova centralità politica del giudice costituzionale poiché essa appare il frutto non tanto della sua forza quanto dalla grande debolezza degli altri poteri di quelli propriamente politici del Parlamento in primo luogo senza poter più allargare il discorso più di tanto che dovrebbe riguardare come dire la centralità della Costituzione come squilibrio prodotto dalla crisi della democrazia politica tema da far tremare i polsi voglio notare che lo sbilanciamento c'è certo e non c'è nulla da rallegrarsi sebbene si può sempre dire che sia molto meglio che gli spazi lasciati vuoti dalla rappresentanza politica siano occupati dal garante della Costituzione anziché da militari colpisti o forze politiche fuori controllo certo d'altronde ci ha ricordato Ruotolo la Corte ha istituzionalmente il compito di garantire l'equilibrio istituzionale oltre ovviamente a quello di garantire i diritti sì certo ma ciò non toglie che oggi si registri uno squilibrio se la Corte deve operare tra il polo dei diritti e quello dei poteri oggi la debolezza di questo secondo polo che rende controversa la tutela dei diritti e indebolisce le garanzie fornite dal polo giurisdizionale qui c'è un punto che vorrei sottolineare se esiste un intreccio naturale tra tutela dei diritti e garanzia dei poteri è anche vero che in questa fase la debolezza degli altri poteri rischia di sbilanciare sino a stressare gli equilibri del processo costituzionale piegando le tecniche processuali alle ragioni sostanziali di tutela dei diritti in sostituzione dei poteri tre esempi credo siano sufficienti per dimostrare quanto appena affermato primo con le due sentenze sulla legge elettorale direi obbligate vista l'inerzia la debolezza del legislatore sul tema il filtro della rilevanza è ormai nelle mani della Corte che potrà farla valere in modo assai lasco ed è così che la Corte ha conquistato una cittadella un tempo riservata alla politica eliminando una zona franca del processo costituzionale piegando le tecniche e i procedimenti alla buona ragione della tutela di diritti fondamentali dei cittadini quella del voto quella del voto che si pone a fondamento ci ricordava la Corte della democrazia rappresentativa e anche qui scusate se poco secondo esempio dopo le tre decisioni in rapida successione dell'ordinanza di rinvio a data fissa con implicita declaratoria di incostituzionalità anche la modulazione degli effetti delle sentenze di accoglimento sono ormai nelle mani del giudice costituzionale ma non è questo tanto ciò che vorrei sottolineare ciò che colpisce è la messa in mora del Parlamento non più solo il controllo sugli effetti delle decisioni ma l'affermazione del suo primato della Corte dai moniti inascoltati se passati agli ultimatum scusate questa espressione un po' brutale ma che rimangono anche essi inascoltati che rimangono anche essi inascoltati per la verità almeno su un'ora ma che sono produttivi delle incostituzionalità preannunciate terzo è ancora l'inizio del Parlamento che ha motivato non so se è giustificato in questo caso l'eccesso di manipolabilità della normativa esistente e dalle additive rimobbligate si è giunte a un'indicazione direttamente da parte dei giudici costituzionali di una delle normative possibili rendendo questa immediatamente operante in attesa di un futuro incerto anzi improbabile intervento del Parlamento potrei continuare ma mi sembra aver chiarito il punto essenziale è certamente vero come ci ha insegnalato Caterina Severino ieri che la manipolabilità degli effetti può essere uno strumento di dialogo virtuoso tra corte costituzionali legislatori e giudici mentre devo dire francamente sono più perplesso cerca l'opportunità di introdurre una forma di sesim parlamentare in un frangente come quello che sto descrivendo sarà pur vero come ancora ci ha detto Ruotolo che la corte è ispirata da una logica dialogante ma per dialogare bisogna essere in due mentre in Italia il Parlamento oggetto privilegiato del dialogo istituzionale rimane silente e questo è il vero punto di caduta se fosse vero come è stato scritto autorevolmente che nell'attuale momento storico il mero procedimento parlamentare non è in grado di garantire la razionalità delle leggi non potremo per nulla rallegrarci del potere sostitutivo esercitato dalla corte perché non è nel vuoto politico che può legittimarsi l'attivismo dei giudici costituzionali quelli costituzionali no scusate fate terminare il professor Azzariti che ci sta mettendo di fronte ad alcune cosette che peraltro ce le siamo ecco solo un accenno no certo la responsabilità non è della corte questo era del tutto implicito ma sono le conseguenze comuni questo è del tutto implicito la responsabilità è ovvio che non è della corte quello che sto cercando di sottolineare è la debolezza della politica e la mia preoccupazione non facendo il giudice costituzionale permettetemi non facendo il giudice costituzionale non è è sulla forma di governo e la forma di governo sbilanciata è assai complessa e assai preoccupante alla questione legata sin dall'inizio no figuriamoci se non vengo qui a parlare male della corte in caso altrove solo un accenno e qui concludo sono un accenno e qui concluso anzi una mera impressione perché non mi sbilancio sulla diversa esperienza francese del conseil costituzionale credo che possa dirsi anche in Francia che il modello di giustizia costituzionale si forma sull'asse politica e giurisdizione mentre però in Italia anche grazie all'incidentalità come strumento di accesso la corte nasce giudice e poi diventa sempre più garante degli equilibri tra i poteri in Francia avviene mi sembra esattamente l'opposto nasce come il consulente dei poteri poi diventa sempre più giudice di diritti grazie alla question prioritaire anche grazie alla question prioritaire ma è anche vero che entrambi le corti si sono fin dall'inizio battute per assicurarsi un ruolo autonomo nell'ambito della forma di governo come ci ha spiegato Thierry Di Manot ieri e Fanny Jaclot e ho trovato francamente assai interessante il parallelo propostoci da entrambi tra la prima giurisprudenza francese su bloc de costituzionalité e la sentenza 1 del 56 della nostra corte costituzionale un percorso che non era affatto obbligato percorrere un risultato che va dunque a merito della volontà delle corti e alla caparbietà dei giudici in ogni caso a me sembra indiscutibile che non la corte forse anche la corte ma i costituzionalisti nel dialogo tra costituzionalisti le questioni di carattere generale che vi ho esposto devono essere assunti in modo problematico qualche inquietudine forse dovremmo averla l'introduzione della question de priorité ha rivoluzionato abbiamo sentito il conseil i dati forniti questa mattina dal presidente Fabius sono inequivocabili una rivoluzione in Francia che mi è apparsa in alcuni passaggi della relazione dei nostri colleghi d'oltrealpe una storia già vissuta nel nostro paese un controllo ex post delle leggi tramite un meccanismo incidentale che tutte le differenze tra incidentalità e question prioritaire lascio da parte che è stata però introdotta in Francia solo di recente dieci anni rispetto ai 65 della nostra corte costituzionale oltre ciò permette oggi al conseil di ripercorrere alcune questioni da noi bene o male che siano state bene o male già affrontate dall'espensione della giurisprudenza ai limiti del legislatore al moltiplicarsi delle tecniche processuali e ve l'encanto io credo che sia molto interessante per noi in Italia vedere quali strade analoghe diverse deciderà di percorrere il conseil e mi auguro che da ciò si possa dare l'insegnamento per la nostra esperienza e mi auguro anche che sappiano indicarci i francesi le nuove vie da seguire vi ringrazio grazie molto a Gaetano Azzariti per questa relazione che ci ha disegnato un quadro di insieme che deve farci riflettere perché i singoli fenomeni da soli possono essere oggetti di discussion più o meno intensi ma è il quadro di insieme che suscita qualche interrogativo su cui giustamente hai richiamato l'attenzione e ora la parola e la cura di insieme di insieme e per me è un'emotione molto particolare che di me ritrovare a la Corte Costituzionale perché il y a près di 20 anni, già, non più di 20 anni, ho presentato una testa di Droit Comparé franco-italiano che si intitulava Droit Comunale, non c'è mai più il nome di ma testa, 20 anni, c'è troppo lungo Contrò di Costituzionale e Droit Comunale devant le giugno constitucionale francese e italiens e ho avuto la chance di aver Marta Cartabia che aveva siegato nella mia giuria che aveva luo sa these, ovviamente, sui principi fondamentali e quindi, io posso dire che ho stato elevato e in due sensi del termine elevato in mia connaissance del Droit e elevato anche, d'un punto di vista culturale, al Droit e al Droit Costituzionale grazie a la giurisprudenza della Corte Costituzionale ma anche a la Doctrine Costituzionale sono molto felice, oggi, di poter mettere dei visaggi sui nomi, sui bibliografie di These e io ho sempre appreciato e le debatt su la hiararchia dei normi en hanno témoigné, di a la fois l'imagination di la Doctrine Italiana, che malheureusement non abbiamo molto in Francia, e la cultura théorica che existe anche in la Doctrine Italiana quindi grazie a tutti, anche, di m'avere nourri da più un tempo. C'è il cote affectivo, una domanda d'ordine politica, perché on ha molto parlato di crisi, crisi di la démocratie, on potrebbe aggiungere crisi del libéralismo, crisi di l'Etat di Droit, e la question s'est posata di nostro positione, noi, di scientifiche, face a queste diverse crisi, allora crisi di la démocratie, crisi del regime representativo, populismo, l'arrivée au pouvoir de parti, qui sono per lo meno problématique, perte della credibilità del discorso politico, c'è tutto il volo democratico, il libéralismo, che è atteint di maniera molto significativa, che sia l'Etat d'urgenza terrorista, o l'Etat d'urgenza sanitaria, si trova in delle logiche restricte vis-à-vis delle libertà, è molto problematiche, e, potremmo, noi ci situiamo più naturalmente, di l'Etat di Droit en tant che constitutionnalista, e di la justice constitutionale, che può, precisamente, fare barrage a queste difficoltà di côté della démocratie o del libéralismo, sono molto felice, che il presidente Fabius se felicite di sa defensa dell'Etat di Droit, sono molto meno optimista che lui se li la jurisprudenza del Consello che, per esempio, a propos dell'Etat d'urgenza sanitaria, che non ha alcun fondament constitutionnel, ma alcun fondament constitutionnel, il Consello constitutionnel, che, per esempio, di chiama l'Etat di Droit, a considerato che la constitution n'exclut pas la possibilità d'instituer un Etat d'urgenza sanitaria. La constitution n'exclut pas. Ma la constitution n'exclut pas beaucoup de choses. Demain, se noi abbiamo a un pouvoir quelqu'un che è un antilibéral, il è vero che la constitution n'exclut non di recontri a la frontiera per tutte le population musulmane. Ce n'est pas exclu par la constitution. Donc, j'avoue que j'ai un peu de mal sur la confiance dans mon Conseil constitutionnel. Certains diraient j'ai mal à ma justice constitutionnelle. Et, autre élément, tout aussi problématique, violation, ça a été dit hier, directe, des questions de délai en matière constitutionnelle, délai de 15 jours, le délai est violé, c'est même 2 jours, 3 jours, enfin, peu importe, le délai est violé, la règle est simple, 15 jours, le délai n'est pas respecté et le Conseil constitutionnel nous dira que, compte tenu des circonstances particulières, tout va bien. Bon, entre compte tenu des circonstances particulières et la constitution n'exclut pas, je ne vois pas très bien à quoi la constitution va s'opposer. Donc, quel est notre positionnement par rapport à tout cela et donc sortir du discours scientifique pour avoir un discours finalement beaucoup plus prescriptif, quelle est la question finalement du seuil de vigilance et je crois que le seuil de vigilance c'est quand on commence à sentir qu'on ne peut pas exercer son métier de manière libre parce que c'est ça le métier d'universitaire, c'est la liberté de parole et je pense que quand on commence à s'inquiéter sur sa liberté de parole, c'est le seuil de vigilance où il faut sans doute sortir de des questions purement scientifiques pour peut-être un peu plus s'investir sur le terrain de l'opinion publique, du débat politique parce que c'est vraiment problématique et sous l'angle de la liberté d'expression, je ne sais pas ce qui se passe en Italie, mais en France, il y a des mots tabous aujourd'hui dans un amphithéâtre et c'est vrai que... Et oui, pardon. Et il y a un certain nombre de mots tabous qui vont générer des réactions toujours très problématiques. J'en viens enfin, puisque c'était ce qui m'était demandé, à la synthèse de ce colloque et donc avec une analyse du coup qui sera purement scientifique. Alors, dialogue des doctrines constitutionnelles, on peut dire que l'intitulé du colloque est lui-même auto-performatif. Si nous sommes là à discuter du dialogue, nous témoignons bien du dialogue et qu'évidemment, pour tout discours scientifique, le dialogue, c'est la base, l'échange d'arguments, l'opposition d'arguments pour essayer de développer un discours de connaissance qui nous permettra encore mieux de décrire le réel qui fait l'objet de nos études et le réel qui nous intéresse, c'est le droit, et plus précisément, le droit constitutionnel. Alors, sur le sous-titre, puisque je pense que tout est dans le sous-titre, sur l'unité, vers l'unité transfrontalière du droit constitutionnel, alors, les deux sens ont été utilisés, mais moi, je n'en retiendrai qu'un. Le droit constitutionnel, je l'entendrai non pas comme le droit constitutionnel formel ou matériel, c'est-à-dire non pas comme un objet d'étude, mais plutôt comme le discours sur le droit constitutionnel. Et je pense que, s'il peut y avoir une unité, et je dirais même qu'il doit y avoir une unité, je m'expliquerai là-dessus, c'est une unité des discours sur le droit constitutionnel. Et cette unité, elle se fait, et je développerai cette idée, elle se fait par le biais de concepts, et par le biais de la construction de concepts communs, à même de nous permettre de décrire le droit, et plus particulièrement le droit constitutionnel. Et dans cette démarche-là, c'est une question, finalement, simplement de droit comparé. Le dialogue des doctrines, les dialogues des doctrines que nous avons développés ici, entre la doctrine française, les doctrines françaises, ou plus exactement encore, certains représentants de la doctrine française, et certains représentants de la doctrine italienne, témoignent de ce que nous avons pratiqué du droit comparé. Bon. Et cette unité, elle passe par là. Donc j'aurai deux temps dans ma réflexion. Qu'est-ce que le droit comparé, et comment on fait du droit comparé, une question d'ordre général, et qu'avons-nous fait avec le droit comparé lors de ces deux jours ? Alors, qu'est-ce que le droit comparé ? Tout d'abord, et donc des précisions d'ordre méthodologique, et peut-être aussi quelques inquiétudes sur des tendances qui me paraissent quelque peu problématiques. Alors, qu'est-ce que c'est que faire du droit comparé ? Eh bien, pour moi, c'est faire de la théorie du droit. C'est-à-dire, c'est poser des concepts généraux d'analyse qui sont susceptibles de s'appliquer à un nombre infini de cas. Donc, il s'agit de poser des définitions théoriques, et, à partir de ces définitions théoriques, de décrire des extensions du concept. Si je reprends la trilogie, la dénomination du concept, il y a l'intention, c'est-à-dire la définition et l'extension. Eh bien, faire du droit comparé, c'est disposer de bons concepts généraux d'analyse pour pouvoir les multiplier dans des cas d'application, dans des illustrations, et donc dans des extensions. Évidemment, pour construire ces concepts, il est nécessaire d'observer les droits étrangers, et sans doute, en observant les droits étrangers, en multipliant les objets d'observation, on peut construire de meilleurs concepts, parce qu'on n'oublie rien, finalement. Mais en même temps, une fois que le concept est construit, il doit pouvoir décrire tous les systèmes juridiques, et plus exactement, permettre de les comparer. Puisqu'encore une fois, pour comparer, il faut un terme de comparaison, et quelle discipline propose des termes de comparaison, c'est évidemment la théorie du droit. Et de ce point de vue-là, j'avoue que je m'oppose avec toute la culture du droit comparé culturel, il faudrait s'imprégner de la culture, alors je ne sais pas ce que c'est s'imprégner de la culture d'un État étranger, plutôt Lazio, plutôt Roma, je ne sais pas, plutôt pizza, ou pasta, je ne sais pas comment, ce qui révèle la culture d'un État, ce que je sais, en revanche, c'est que si j'ai un bon concept d'analyse, par exemple, de ce qu'est la justice constitutionnelle, je pourrais le comparer en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, sans jamais avoir mis les pieds là-bas et sans non plus forcément partager leur culture. Donc je pense que la question de la méthode du droit comparé, c'est de la théorie du droit, et c'est donc la construction de concepts généraux, et c'est ce que, d'ailleurs, nous avons fait, mais j'y reviendrai. Par ailleurs, et ça me paraît aussi quelque chose d'important, parce que, en tant que juriste, nous partageons beaucoup de concepts avec d'autres disciplines. La séparation des pouvoirs, on en parle en philosophie, on en parle en sciences politiques, la souveraineté, c'est pareil. Donc on mobilise tout un ensemble de concepts qui sont partagés par des sciences très différentes. Et je trouve, en tout cas, je parle de la doctrine française, et pour l'avoir étudiée notamment dans les manuels, que rarement, les juristes ont des concepts propres de souveraineté, d'État, on manque de concepts propres, et ça me pose problème du point de vue de l'autonomie du discours scientifique juridique que de ne pas proposer des concepts propres. Et qu'est-ce que c'est qu'un concept juridique ? Parce que, finalement, c'est la question à laquelle renvoie mon interrogation. Je pense qu'un concept juridique, c'est un concept qui renvoie au droit et à sa définition du droit, quelle qu'elle soit. Et si on est normativiste, ça renvoie aux normes, évidemment. Et peut-être encore un concept juridique, c'est celui qui repose sur des énoncés qui renvoient à la logique déontique, permission, d'interdiction ou d'obligation. Et je pense qu'on a tout intérêt à développer nos concepts propres qui renvoient à notre définition du droit ou qui reposent sur des énoncés déontiques. Face à ce qui me paraît être devoir faire, ou en tout cas ce qui me paraît être, enfin, ce qui est au moins en tout cas ma méthode de comparatiste, et pour cela je me suis nourri de la doctrine italienne évidemment, il y a deux tendances qui me paraissent quelque peu problématiques. Je dirais qu'il y a la tentation outre-Atlantique, on dira, avec le droit global. Et si je suis les conclusions d'Arnaud Morando sur cette question, le droit global, si c'est un discours sur le droit, il y a deux tendances globalistes. Il y a toute une tendance qui consiste à transférer des concepts nationaux, souveraineté, État, justice constitutionnelle, et l'hierarchie des normes, à des analyses internationales ou européennes. Ça, c'est un premier mouvement. Et il y a un second mouvement qui est plus substantialiste, qui consiste à dire que, lorsque l'on observe l'ensemble des droits positifs, l'ensemble des cours internationales, supranationales, se développent, émergent, en général, il y a le mime avec, c'est émergent tout un ensemble de droits communs. Donc, il y a une tentation substantialiste, et je dirais néo-just-naturaliste, et une tentation de transfert des concepts. Ce qui me paraît problématique dans les deux cas, c'est que la logique substantialiste, elle me paraît décrédibiliser notre discours. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment une finalité à poursuivre que d'avoir un droit commun ? Je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un droit commun. Je ne sais pas. Alors, sans doute, il y a des valeurs. J'adhère à des valeurs communes. Mais je ne vois pas d'un point de vue scientifique pourquoi il faudrait qu'il y ait un droit commun. J'avoue que j'ai un peu de mal à la fois avec ce discours prescriptif et même avec la logique politique qu'il y a derrière. Et quant au transfert des concepts, la difficulté, c'est que c'est plus une question de transfert des concepts que de construction des concepts. C'est-à-dire que, finalement, on essaie de transférer des concepts, mais sans savoir ce qu'est le concept. Donc, je trouve que toute la tentation globaliste est faible d'un point de vue conceptuel. Et surtout, ce qui me paraît encore plus problématique, elle est factuelle. Elle ne s'intéresse pas aux normes, elle ne s'intéresse pas aux normes juridiques, elle ne propose pas de critères précis de distinction des normes juridiques. Donc, vraiment, c'est un détour factuel et en plus, sans aucune exigence méthodologique rigoureuse. Puisque, si on assimile le droit au fait, alors il faut développer des méthodes d'ordre empirique. Aucun globaliste ne développe des méthodes d'ordre empirique. Donc, ce n'est pas un discours scientifique. Et, autre élément, autre tendance qui me paraît problématique, et je paraphraserai Mortati sur ce point, c'est la force normative de la nouveauté. Voilà. C'est-à-dire qu'on aurait tout un ensemble de concepts qui ne servirait plus à rien, qui ne servirait plus à décrire notre nouveau monde. Donc, la hiérarchie des normes, ça ne permettrait plus de décrire notre nouveau monde, la souveraineté non plus. Alors, soit on essaie de transférer le concept, soit on dit qu'il ne sert à rien, il ne sert plus à rien. Et on a tendance à dire que, comme le contexte change, les concepts doivent aussi changer. C'est une question extrêmement difficile de la mutabilité des concepts. Moi, je pense que le premier point, c'est déjà d'avoir de bons concepts et de les éprouver à l'aune de nouvelles extensions. Est-ce que le développement des organisations internationales change la manière de présenter les rapports entre les systèmes juridiques ? Autrement dit, la hiérarchie des normes qui repose, j'y reviendrai, sur une logique de rapport de production, permet-elle ou non d'expliquer le nouveau monde globalisé ? Moi, je considère que oui, je peux éprouver ce concept à l'ombre du monde mondialisé et il me paraît pouvoir décrire de manière scientifique comment s'articulent les nouveaux systèmes. Au lieu de ça, la plupart du discours globaliste, en tout cas, consiste à dire non, mais il n'y a plus d'hierarchie et le problème, c'est qu'il n'y a aucun autre concept alternatif. Parce que moi, je veux bien, et c'est ça aussi la passée scientifique, c'est critiquer les concepts existants mais pour en proposer de nouveaux ou en tout cas pour nourrir les concepts existants. Il n'y a aucun concept nouveau alternatif pertinent. Pluralisme, pluralisme ordonné, théorie des réseaux, quels critères concrets pour savoir quelles normes s'appliquent dans un cas déterminé ? Aucun critère n'est donné ni par le pluralisme ordonné, ni par le droit global, ni par la théorie des réseaux. J'ai envie de dire sans être réactionnaire, mais là, ce n'est pas une histoire de réactionnaire, c'est une histoire de connaissance. Éprouvons les concepts existants, disons en quoi ils ne vont pas pour les améliorer plutôt que d'avoir cette logique de la nouveauté assez nouveau où c'est trop ancien et donc on ne peut pas les utiliser. La science, ce n'est pas de la mode. Non, la science, c'est la mobilisation d'un langage rigoureux pour décrire le réel qu'on est censé observer. Alors ça, c'est ce que c'est que le droit comparé, des considérations générales et qu'avons-nous fait, nous tous ensemble, communauté universitaire durant ces deux jours ? Alors on a comparé plus particulièrement la France et l'Italie, c'est la question de la communicabilité, le mot a été utilisé, on a tous pensé au doyen escarasse, évidemment, et on a ensuite mobilisé précisément des concepts généraux que l'on a déclinés selon le droit positif français ou le droit positif italien et de ce point de vue-là, on a bien adopté cette méthode-là qui consiste à partir de concepts généraux, de rattacher à ces concepts généraux les droits positifs français et italiens. Alors sur la communicabilité, et donc la comparaison franco-italienne, je dirais qu'à la fois elle repose sur des éléments forts et substantiels et à la fois elle est contingente de cette comparaison. Alors des éléments forts et substantiels de la comparaison, j'ai envie de dire que tout est communicable en réalité. Encore une fois, si j'ai un concept général de séparation des pouvoirs, il me permet d'étudier n'importe quel système, évidemment. Pareil de constitution, si j'ai un concept général de constitution, il y a des constitutions partout. Donc tous les systèmes sont communicables entre eux, dès lors qu'on a un concept généraux de comparaison. Mais, et ça c'est ce qui est peut-être le plus intéressant avec l'Italie, du moins du point de vue du droit positif, c'est que la France et l'Italie sont en quelque sorte le miroir l'un de l'autre, mais le miroir opposé, où le frère, j'ai envie de dire, le frère qui regarde l'autre sans vouloir le faire. Il y a une multitude d'exemples. Si on prend d'un point de vue théorique sur les rapports de système, nous on est plutôt moniste, vous êtes dualiste. Longtemps, le contrôle en France a été exclusivement a priori. Vous, il y avait la voie incidente. Lorsqu'on a introduit la QPC, on s'est interrogé sur le système italien qui a été pour le coup un exemple. Et souvent, il y a cette communication-là entre les systèmes juridiques. Alors moi, je le vois plutôt du côté français où il y a beaucoup de références au système italien, mais aussi du côté du système italien, il y a ces références au système juridique français. Et c'est finalement peut-être les Alpes qui permettent de faire la frontière. Et il y a toujours ce regard vers l'Italie de la doctrine française et qui nous permet souvent de nous nourrir sur des réflexions du droit positif. Et puis, il y a aussi une culture commune. Kelsen, on croit que c'est évident, mais non, en Allemagne, on ne parle pas de Kelsen. Non, on ne parle pas de Kelsen, pas du tout de Kelsen. Ah non, très très peu. Et aux Etats-Unis, n'en parlons pas, à part quelques irréductibles gaulois. Enfin, je ne sais pas s'ils ont des irréductibles aux Etats-Unis, mais ils sont plutôt en colère les irréductibles. Donc, très peu de gens parlent de Kelsen. Et ça reste un référent pour l'ensemble de la doctrine. Bobbio, c'est pareil, Bobbio, en Italie, en France, pardon, en Italie, évidemment, mais en France aussi, c'est un auteur qui est étudié. On parlait de l'institutionnalisme, du pluralisme, Santi Romano, d'un côté, Oriu, Dugui, là aussi, il y a des communications. Si on prend la justice constitutionnelle, évidemment, Zagrevelski, Pizzorusso, Favoreux, la table ronde à Aix, et là, c'est tous les éléments aussi qui sont beaucoup plus contingents dans la comparaison. Ce sont des amitiés, ce sont des centres de recherche franco-italien à Toulon, c'est aussi à Aix, la comparaison qui se développe, et ça, ce sont aussi des régions contingentes, c'est Giuliano qui organise ces journées, et ça, c'est des éléments purement contingents, mais qui me paraissent néanmoins nécessaires, parce que c'est aussi, encore une fois, nourrir le dialogue commun des doctrines pour assurer une meilleure connaissance unitaire du droit en général et du droit constitutionnel en particulier. Si l'on s'en tient ensuite à la manière dont on a procédé, c'est-à-dire des réflexions à partir de concepts, démocratie représentative, crise de la démocratie représentative, modèle de justice constitutionnelle, donc on a bien comparé des droits positifs à partir de concepts communs. Il me semble que, de ce point de vue-là, on a pu identifier deux types de concepts. Des concepts prescriptifs, c'est-à-dire des concepts qui sont plutôt d'ordre politique, qui entendent dire ce que impose tel ou tel concept. La représentation, ça a été évoqué, et donc la crise de la représentation, c'est-à-dire qu'on a un concept prescriptif qui consiste à dire que la représentation, ça doit être ça, et il s'agira d'évaluer si finalement le droit positif est ou non conforme à ces exigences politiques du concept. Et il y a une deuxième catégorie, une seconde catégorie de concepts, c'est ce que des concepts qui sont, eux, descriptifs. Là, il n'y a aucune évaluation, ils tendent simplement à décrire l'objet qui est observé. Et pour le coup, les concepts descriptifs, on ne va pas les évaluer à partir du droit positif, puisqu'ils sont simplement censés le décrire, ils ne prescrivent pas à un droit positif particulier, autrement dit, ce ne sont pas des concepts d'évaluation du droit positif. Et de ce point de vue-là, il y a parfois une ambiguïté dans les concepts à prendre un concept descriptif pour un concept prescriptif. Et vous voyez où je veux en venir, la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, ce n'est pas un concept prescriptif, c'est un concept descriptif. Ce n'est pas une norme juridique que la hiérarchie des normes, c'est un discours doctrinal visant à décrire la manière dont on peut concevoir l'agencement dans un système juridique, je n'ai pas de problème à employer les termes de système juridique ou un ordre juridique, la manière dont s'agencent les normes entre elles. Et ça, ce n'est qu'un discours descriptif. Il n'est pas valable ou pas valable parce que la loi ne respecte pas, parce que la loi fait autrement. non, ce n'est pas en soi irrecevable, la hiérarchie des normes n'est pas irrecevable parce que parfois la loi va déléguer à une autre loi une compétence et que donc il n'y aura pas d'hierarchie. Non, ça n'invalide rien du tout. D'autant qu'il ne faut pas oublier que le discours de la hiérarchie des normes n'est pas le seul discours qui permet, et ça a été évoqué, ce n'est pas le seul critère qui permet de résoudre les conflits. Ça a été évoqué, hiérarchie, spécialité, compétence, chronologie, ce sont d'autres moyens que de résoudre les conflits. La hiérarchie des normes n'est pas là pour résoudre tous les conflits. La hiérarchie des normes c'est simplement l'un des critères mobilisables pour résoudre un conflit de normes lorsque celui-ci repose sur le rapport de production. J'ai oublié de le dire mais c'est quand même le premier des points à indiquer. La hiérarchie des normes c'est le rapport de production. C'est tout. Et c'est de dire que dans un système juridique et quels que soient les systèmes juridiques je peux présenter la manière dont se structure l'ordre juridique à partir du rapport de production. Alors évidemment après que le rapport de production théorique c'est beau et qu'en pratique c'est beaucoup plus complexe. Oui, évidemment. Bien sûr que c'est beaucoup plus complexe. Parfois le rapport de production, la constitution détermine le rapport de production des actes réglementaires et pas forcément la loi. Donc le droit positif est forcément plus complexe que la représentation sur le rapport de production et tout n'est pas régi par le rapport de production évidemment. Mais il n'empêche qu'il me paraît important de souligner que ça reste le seul critère pertinent qui permet de décrire la manière dont s'ordonnance les normes dans un système juridique. Même si évidemment le droit positif va être plus complexe que la simple présentation traditionnelle constitution loi règlement. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais néanmoins le critère reste pertinent. Voilà sur ces quelques éléments rapides que je pouvais dire en essayant de voir ça un peu en méta, en méthodologie des propos qui ont été développés et je tiens en tout cas à vous remercier d'avoir nourri cette réflexion d'ordre méthodologique sur le dialogue entre les doctrines constitutionnelles. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Bene, grazie anche Xavier Magnon per questa molto impegnata metodologicamente e concettualmente relazione che ha messo alcuni punti fermi sulle necessità di serietà nell'analisi e nell'utilizzo dei concetti senza i quali non ci sono guadagni scientifici per nessuno e a questo punto dobbiamo concludere è arrivata l'ora credo che siano state due giornate e mezzo estremamente intense proficue io ne esco contento e ho imparato tante cose e anche Franco è contento e ha imparato tante cose anche lui magari ce ne ha insegnate anche qualcuna e ancora una volta e quindi insomma un ringraziamento a tutti gli amici francesi soprattutto che sono venuti qui è un arrivederci a Palazzo della Consulta per la prossima e grazie anche a tutti gli amici italiani e agli amici di Roma 3 soprattutto grazie ancora